E' stata inaugurata la presenza di numerose persone dopo il restauro alla chiasetta di San Michele nel comune di San Gregorio Matese. La chiesa, si legge nel catalogo generale dei beni culturali, nacque come punto di preghiera e culto dei pastori, che di lì passavano e sostavano nei loro tragitti di transumanza verso le cime del Matese. Domenico Loffreda, storico locale, si interroga anche sulla possibilità che si sia trattato di una rivolta contro quelli del Paese per monopolizzare il culto dell'Arcancelo Michele, portandone la cappella sul lago e togliendola alla parrocchia di Santa Maria delle Grazie. Il restauro è stato possibile grazie alle offerte di numerosi fedeli. Presente il Vescovo Cirulli, il Sindaco Mallardo e parte dall'amministrazione comunale. Da San Gregorio Matese è tutto, Lorenzo Applauso per casertasera.it